Morto il senatore Bruno Astorre, era nel suo ufficio a Palazzo Cenci. È morto Bruno Astorre, 59enne senatore del Partito Democratico. Il suo corpo è stato ritrovato venerdì mattina a Palazzo Maccarani Stati, detto anche Palazzo Cenci, un palazzo nel centro di Roma che ospita alcuni uffici del Senato. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Astorre era senatore da 10 anni, e dal 2018 era segretario regionale del PD nel Lazio. Aveva iniziato la sua carriera politica nella democrazia cristiana e poi nel Partito Popolare Italiano, con cui nel 1998 era stato eletto al Consiglio Provinciale di Roma. Dopo essere entrato nel PD è stato prima assessore regionale alla Casa, poi presidente del Consiglio regionale del Lazio. Nel 2013 era diventato senatore, ed era stato rieletto sia nel 2018 sia nel 2022. Venerdì pomeriggio il segretario uscente del partito, Enrico Letta, ha commentato su Twitter la morte di Astorre. «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C'è il silenzio. C'è la preghiera. La brava ai suoi cari». Enrico Letta, Chiocciola Enrico Letta, March 3, 2023